Una mattinata a Palazzo Iacono all'insegna dello sport e delle arti marziali, in particolare il sindaco Moschiata ha infatti ricevuto il campione vittoriense di Muay Thai, Salvatore Cicerone, che un mese fa a Rosolini ha conquistato il titolo italiano Fight 1 nella disciplina del K1 grazie alla vittoria contro Ismaele Bene, campione nazionale in carica, nonché detentore del titolo mondiale conquistato in Grecia. Nella sua visita al comune la teta vittoriense era accompagnata dai maestri che l'hanno seguita in questi anni, ossia Luca Cuppere e Rosario Di Pietro, è sempre un piacere a dichiarato al termine lo stesso Moschiato accogliere al Palazzo di Città i nostri sportivi d'eccellenza perché grazie al loro impegno e al loro talento si raggiungono questi traguardi e di questo ne beneficia ovviamente il nome di vittoria.